Qui vi presentiamo le 5 migliori brandine pieghevoli. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Mia Suite e i sogni italiani brandino pieghevole con materasso blu. Offre un supporto ergonomico e allo stesso tempo sostiene pesi pesanti. È costituito da una struttura in ferro con doghe in legno di faggio, su cui rilassa un materasso Waterfoam alto 10 cm coperto con materiale 100% poliestere. Il lenzuolo Waterfoam del materasso dell'Etto, originato da poliuretano allargato, ha due qualità di base ergonomia e resistenza. Interamente prodotto in Italia con manifattura e materiali italiani, ha una garanzia di 15 anni. Passando al numero 4. Peautissu Brandino pieghevole con materasso singolo 80x 200 cm Venetia. La struttura di base in acciaio con rete integrata, resistente o tre che sicura, è dotata di doghe in legno con uno spessore di 8 mm. Garantisce una capacità di circa 100 kg. Il materasso in schiuma 41% poliestere e 59% cotone alto 10,5 cm garantisce un ambiente confortevole e confortevole per tutto il riposo. Viene fornito in totale con una copertura di sicurezza antipolvere e anche anti-umidità da applicare al quadro non appena chiuso in modalità salva spazio. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Goldflex, brandina pieghevole MOL. È una versione davvero robusta con doghe in legno e anche una fornice a profilo quadrato. Viene fornito pieno con un materasso alto 12 cm in anti-accaro waterflex schiuma d'acqua. Quando è ripiegato, è estremamente piccolo 111 cm x 35 x 80 cm. È attrezzature con quattro ruote girevoli resistenti ai graffi e anche resistenti. La base ortopedica metallica fissa garantisce la massima resistenza. Almostat è top of our list at number 2. Totò Piccini brandino pieghevole top. È un letto pieghevole salva spazio, completo di ruote girevoli per semplificare il movimento. Grazie all'apertura automatizzata assistita d'elegante, il suo utilizzo è facile e funzionale, senza bisogno di sforzi specifici. Viene fornito in totale con un comodo cuscino singolo in schiuma di poliuretano alto 12 cm. La struttura tubolare di 25 mm di diametro in acciaio ad alta resistenza viene trattata con una vernice nera opaca e possidica non tossica. E infine il numero 1 della nostra lista. Evergreen Web, brandina pieghevole con materasso Infaterfoam 80x190. È un letto solitario pieghevole con materasso con schiuma d'acqua da 80x 190 cm alto 10 cm e cuscino in schiuma di memoria. Il cuscino è di tipo ortopedico e fornisce l'adeguata assistenza alla colonna vertebrale a una finitura traspirante, materiale ipoallergenico e anche antiacarro, foglio interno di schiuma d'acqua ad alta durata, schiuma di poliuretano con acqua. Il telaio portante in acciaio ad alta resistenza è liscio e viene riverniciato con polveri e possidi. La struttura è completa di 4 ruote in nylon antigraffio da 5 cm. Il letto del campo ha in realtà 13 doghe di betula ammortizzate posizionate su supporti in polietilene antiscuiti. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.